ok sono le 16 20 del 17 3 2017 alla guida stefano a la principesina carrellista mulettista mulettista e il top della seal come ci sono vegetali devono andare a lavorare ne dice tutti ecco Ehm, 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 Grazie a tutti 20-52 Cioè non si sento C'è un po' di più Shopping domenicale Come risparmiare 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 in pratica in pratica in pratica Abbiamo fatto un 50-50 km, un po' di alto, un altro scatolo. Siamo finiti a mangiare le specialità francesi. Beh, buono questo da Ciletà. Che cazzo di nazione siamo? Non ho idea.